Una buona notizia per i 10 dipendenti che prestano servizio al boccone del povero di Favara. La congregazione femminile Serve dei Poveri ha infatti revocato il loro licenziamento. La comunicazione a tutti i 10 dipendenti è arrivata lo scorso venerdì 30 ottobre. Il 31 infatti sarebbe stato per loro l'ultimo giorno di lavoro dopo l'ottenimento nel settembre scorso di un ulteriore mese di proroga del licenziamento. Quindi potranno tornare a lavorare in tranquillità senza intaccare ore e stipendio. È ovvio che in tutto ciò ne gioveranno anche gli anziani ospiti che non lasceranno la struttura. Questa per noi sarebbe stata la vera notizia di oggi, la più bella. Se non fosse stato che sabato pomeriggio, partecipando ad un incontro indetto da Lillo Cinque Mani e Suor Anna alla presenza di alcuni familiari degli anziani ospiti, abbiamo appreso dell'altro. Siamo venuti a conoscenza e siamo anche in possesso di una lettera inviata dall'economa generale della congregazione femminile Serve dei Poveri Boccore del Povero di Palermo alla consulente del lavoro della congregazione, la signora Minniti. Nella lettera inviata la scorsa settimana, intorno al 25-26 ottobre, Suor Maria Francesca Beristain, economa generale della congregazione di Palermo, parla di un incontro avuto la settimana prima a Favara con il signor Cinque Mani, l'avvocato Schembre, avvocato del personale, e il sacerdote nominato dalla congregazione della diocesi, Don Lamagra. Oltre a fare il sunto della situazione del personale di Favara, Suor Maria Francesca Beristain fa altre dichiarazioni che, sinceramente, hanno lasciato un po' tutti perplessi. Nella fattispecie parla di un nuovo licenziamento collettivo. Da premettere che, proprio il giorno 30 ottobre, Lillo Cinque Mani attendeva per conto della congregazione delle risposte dall'avvocato Schembre, legale dei dipendenti. Due giorni prima aveva infatti inviato una nuova proposta di lavoro con riduzione degli orari e della retribuzione mensile per venire incontro ai dipendenti salvando tutti i posti di lavoro. Mentre io ero in attesa di una risposta da parte dell'avvocato Schembre, procuratore degli operatori che si occupano degli anziani presso questa struttura, di avere una risposta in merito a una proposta fatta per collaborare con l'operapia e continuare ad assistere gli anziani, a lavorare, lasciare gli anziani al proprio posto e salvare tutto quello che c'era da salvare, come dire, capri e cavoli. Ma invece non è così. Non è così perché proprio ieri arriva una comunicazione dalla congregazione, alla nostra insaputa, sia da parte mia sia anche da parte della superiore di Favara, Soranna Ma, che revoca quel provvedimento, revoca il licenziamento collettivo ai dieci dipendenti. E sembra che hanno risolto il problema. All'apparenza sembra positivo, all'apparenza. Solo all'apparenza. Chi non conosce le carte, chi non conosce i fatti, sembra positivo. Ma nella realtà non è che negativo, è ancora di più. Perché possiamo dire benissimo che questi lavoratori a breve, a giorni, riceveranno a casa il licenziamento per altri motivi che non sono quelli che erano scritti nel primo provvedimento, cioè per incolumità della struttura, ma riceveranno un licenziamento collettivo per l'indisponibilità economica, come dire, non possono più affrontare delle spese e quindi la congregazione si mette a sicuro che non c'è nessuno che può impugnare eventualmente quel provvedimento e di conseguenza mandano via gli operatori. Nessuno può fare nessun tipo di provvedimento nei confronti della congregazione e nello stesso tempo gli anziani se ne andranno a casa e la casa si chiude e per il bene di qualcuno che ha voluto questo fine, per realizzare questo benedetto progetto finalizzato ad altri fini che sanno solo loro. Ed ecco invece arrivare proprio il giorno 30, giorno nel quale si attendeva la risposta, a casa dei dipendenti, una lettera da parte della congregazione nella quale gli veniva revocato il licenziamento. Un fatto sicuramente positivo, ma che senza ombra di dubbio aveva lasciato spiazzato il delegato della madre generale Cinque Mani che stava agendo diversamente su indicazione della congregazione. Ed ecco qui che si apre il caso. Cinque Mani, appreso della novità, chiama la superiore del boccone del povero di Favara, Suor Anna, chiedendo se fosse a conoscenza della bella notizia. Dalla conversazione capisce che la congregazione non aveva neanche informato della decisione assunta l'istituto di Favara. Allora decide di chiamare direttamente la madre generale. Dopo un primo approccio, la madre generale demanda il tutto all'avvocato Bisso, ma prima di chiudere la chiamata comunica Cinque Mani di avergli revocato agli inizi del mese la delega, affidatagli a fine settembre. Cinque Mani rimane basito, anche perché qualche giorno prima la stessa madre generale gli avrebbe dato delle indicazioni su come agire, incaricandolo di proseguire. In pratica, la madre generale gli irrevoca la delega ai primi del mese di ottobre, glielo comunica solo il 30 ottobre, facendogli firmare nel frattempo degli atti senza esserne titolato. Da qui l'ex delegato della madre generale fa delle considerazioni, dopo anche aver appreso di ulteriori comunicazioni che la congregazione avrebbe inviato all'istituto di Favara, ovvero quella che le suore e gli anziani devono lasciare la struttura. avrebbero dovuto lasciarla entro il 31 di ottobre, ma per come scrive l'economa generale Suor Beristain, nella famosa lettera inviata alla consulente del lavoro della congregazione, non abbiamo il tempo materiale per far uscire le anziane entro il 31 ottobre 2015. In questa lettera si legge ancora Suor Alice questa mattina ha parlato con il sindacalista Castronovo e lui dice, a differenza di Cinque Mani, che non si può fare un'altra proroga. Quindi, scrive l'economa generale della congregazione alla consulente del lavoro, dobbiamo cominciare da capo il licenziamento collettivo. La motivazione di questo nuovo licenziamento collettivo, dice ancora in questa lettera, sarà perché non abbiamo i mezzi economici sufficienti per poter mantenere la struttura in piedi. Ed ecco, secondo Cinque Mani, svelato l'arcano. Come ricorderete, i dipendenti avevano impugnato il licenziamento e chiesto i danni. Secondo l'ex delegato, la congregazione ha revocato il licenziamento per far cadere le impugnative dei dipendenti, per poi, tra qualche giorno, inviare nuovamente una lettera di licenziamento collettivo per giusta causa, ovvero per insufficienza economica. Di questa lettera, il signor Cinque Mani ha informato l'avvocato Schembri che, a sua volta, avrebbe dovuto informare i lavoratori. Adesso, Lillo Cinque Mani, non essendo più titolato, è costretto a fare un passo indietro. Ha tenuto a comunicare il tutto anche ai familiari degli anziani ospiti che presto, vista l'intenzione della congregazione, potrebbero fare le valigie e lasciare la struttura. Sono venuto a conoscenza dell'arrevoca della delega dalla Madre Generale dopo che ieri è arrivata la comunicazione da parte della congregazione di Palermo dell'arrevoca del licenziamento per i dieci operatori. io, sentendomi scavalcato, nel senso che non mi hanno informato né a me né alla superiore di Favara di questo provvedimento, perché noi avevamo stabilito insieme all'avvocato Bissa e all'avvocato Schembri di fare un programma per cercare di salvare il salvabile che si fa una proposta ai lavoratori e con la loro collaborazione, che usano un pochettino di buon senso, si arrivava a una soluzione. mentre dall'altra parte la congregazione stava lavorando dietro le quinte mandando l'arrevoca del licenziamento per poi fare il licenziamento collettivo per altri motivi che poi non può essere più impugnato e nello stesso tempo, essendo che sono venuto a conoscenza di questa cosa, ho chiamato Madre Generale chiedendo spiegazione di questo provvedimento, se lei era a conoscenza e come stanno le cose. Madre Generale mi ha detto che non conosceva nessun provvedimento, non sapeva niente e si occupava l'avvocato Bissa, che si occupavano quelli di Palermo, della congregazione, che lei non voleva sapere più niente perché era molto impegnata con altre cose. E in quell'occasione mi ha detto pure ma lei non lo sa che ha avuto la delega revocata? Dico come? Diciamo che mi ha revocato la delega? Non è possibile. Dice sì, gliel'ho revocata un po' di giorni dopo che gliel'ho data. E allora dico, dai primi di ottobre io ho avuto la delega revocata da lei e io non sono a conoscenza. E fino a due giorni fa, tre giorni fa, ho firmato atti, provvedimenti per nome e per conto suo. E anche questo ho fatto un errore, ho fatto un abuso. Ma mi è, diciamo, insaputa perché non sono a conoscenza di questa situazione. E lei come si permette a revocarmi una delega senza che mi dà normale comunicazione? E lì lei aveva fretta perché doveva chiudere la telefonata perché era in difficoltà e mi ha rimandato al suo avvocato, avvocato Bissa di Palermo che poi successivamente ci siamo sentiti. Sempre madre generale, il 18 di ottobre alle 22.15 mentre mi trovavo fuori sede mi chiama telefonicamente dicendomi signor Cinquemani, dobbiamo fare questo, ho saputo dell'incontro, sono rimasti tutti contenti, vado avanti, vado avanti, vado avanti per la soluzione del problema. Parlo del 18 ottobre. Come si presenta questa qua, mi viene a dire oggi che mi ha revocato la delega dopo due o tre giorni, significa nei primi di ottobre, due o tre ottobre, che ancora io non ho copia. Ho chiesto la copia e lei mi ha detto che me la dovevo mandare. Ma oggi non ho nessuna copia io. quindi lei mi ha fatto fare prima delle spese che ho affrontato, delle spese che ancora per il materiale, per la sistemazione del tetto e ho ordinato circa 2.000 metri di guaina nella ditta Parrinello di Grotte per cercare di risolvere il problema dell'ingolumità. Poi mi ha detto di fare il lavoro. Abbiamo cercato dei muratori, delle persone che ci venivano ad aiutare in economia a fare un lavoro con le meno spese possibili. Poi mi ha bloccato. Si si fa, non si fa, di qua e di là. Insomma, con questo tir e molla è successo che abbiamo perso un sacco di tempo inutilmente. Questo perché, da un lato, lei era convinta con quello che dicevo io, che gli spiegavo e volevo fare. Dall'altro c'era qualcun altro che la tirava per la giacca. E questo qualcun altro, lei sa a chi mi riferisco. Allora, dal momento in cui il progetto a questi signori gli stava saltando, lei fa marcia indietro. Mentre oggi parla di andare avanti per risolvere il problema, ma nello stesso tempo mi viene a dire che non si occupa più lei perché ci sono altre persone che si occupano per lei perché lei non ne può più di questa situazione di Favara. Io l'ho invitata a venire a Favara per dire, madre generale, lei affronti direttamente gli anziani e gli operatori e tutti e lei mi risponde io non vengo a Favara perché ho paura che succeda un casino. Allora, tutte queste paure, tutti questi problemi, tutte queste magagne che lei ha sotto la coda che le dimostri direttamente a tutti i favaresi che tutti devono sapere che Soranna non è il mostro della situazione che vuole che si chiuda la casa. Tutti devono sapere che Cinque Mani non ha nessun interesse per cercare di tenere la casa aperta o per cercare di tenere la casa chiusa perché ha delle cose da conservarsi. Quindi tutti devono sapere come stanno le cose. Io da domani in poi non mi occuperò più di questa cosa. Sarò sempre accanto agli anziani, sarò sempre accanto ai più deboli per come è sempre stato il mio DNA. Ma tutti devono sapere che un giorno, fra un mese, un anno, due anni questa casa si riaprirà. E vediamo per quale motivo si riaprirà. Vediamo questo progetto criminale che è quello che hanno presentato in occasione del 10 settembre quando c'è stato l'incontro con gli amministratori del Comune di Favara che fine farà. C'è in atto attualmente una querela nei confronti del Presidente Lupo perché ha cercato di invangarmi, di calunniarmi, di diffamarmi di cose che non ho fatto, non ho detto e non conosco. E lui dovrà rispondere in tribunale di quello che ha detto. E questo è un discorso che lui lo pagherà se c'è una legge, una giustizia e andremo avanti fino all'infinito. Perché è giusto che si dà a Cesare qualche di Cesare. Per quanto riguarda invece il discorso dell'amministrazione comunale che non collabora assolutamente alla soluzione del problema degli anziani, degli operatori, delle suore, della casa è abbastanza evidente. Il Sindaco da 15 giorni ci deve mandare la lettera delle dimissioni del Professore Patti. Da 15 giorni deve scrivere all'assessorato regionale per avere la convocazione per la nomina del componente del Comune. Ancora oggi, 31 ottobre, non c'è niente. E allora, poi dicono salviamo, salviamo, salviamo. Ma come le salvano le cose? Chiarezza pretende anche Suor Anna. Come ricorderete, 9 dei 10 dipendenti avevano firmato una lettera nella quale parlavano dei circa 600 mila euro che il Comune di Fevara avrebbe versato negli ultimi tre anni alle suore. Io di questi soldi, ci dice Suor Anna, non ne so nulla. Per questo ho chiesto al Comune di farmi avere la ricevuta di bonifico effettuato in modo tale da capire se e in quale conto sono stati versati. Ma dal Comune non ho ancora ricevuto risposte. Su questa cosa intendo fare chiarezza perché non accetto che qualcuno possa dire o semplicemente pensare che Suor Anna è venuta a Fevara per chiudere la casa e prendersi 600 mila euro per poi andarsene. Ho visto scritto questi 650 mila euro ricevuto negli ultimi tre anni dati alle suore del Comune di Fevara in quanto alle rette di copro degli assistiti. Io da quanto che ci sono qui non ho mai ricevuto questi 650 mila euro del Comune di Fevara per quanto riguarda nelle rette degli quattro anziani che avevamo del Comune di Fevara. Attualmente tuttora abbiamo due non sappiamo nemmeno se stanno pagando. In una delle riunioni precedenti avevamo chiesto al dottor Lupo in presenza del signor sindaco in presenza delle altre suore della congregazione in presenza di alcuni altri personaggi avevamo chiesto avevo chiesto anzi io di farmi pervenire questi bonifici se veramente avevano versato questi 650 mila euro. Il bonifico originale mandato dal Comune alla banca in modo che arrivi al conto della congregazione e non mi hanno dato alcuna risposta fino ad oggi hanno fatto vedere alcune determine che sono stati fatti ma non sappiamo se questi soldi effettivamente si sono stati passati dal Comune di Fevara al conto della congregazione o al conto dell'Opera Pia quindi non so che dire e non vorrei che un domani dicano che io suor Anna ho portato 650 mila euro senza che non so niente di questa cosa. L'indiscrezione che avevamo avuto circa l'ulteriore comunicazione della madre generale inviata a suor Anna il 25 ottobre scorso nella quale si chiede agli anziani ospiti di lasciare la struttura entro il 31 ottobre comunicazione che suor Anna avrebbe dovuto firmare e consegnare ai familiari degli anziani c'è stata confermata dalla stessa superiore ma io ci ho risposto non firmerò niente ho sbagliato una volta riferendosi alla lettera di licenziamento dei lavoratori non lo farò una seconda volta io non mando via nessuno. Io non sono venuta qui a chiudere la casa voglio precisare al tutto popolo favarese che non sono nessuno per chiudere la casa e non sono venuta qui assolutamente per chiudere la casa sono venuta qui solamente per servire chi ha bisogno chi si trova nel bisogno e sono venuta qui per servire veramente i poveri tutto qui. C'è una comunicazione da parte della congregazione che le è stata inviata che lei a sua volta doveva inoltrare ai familiari degli anziani assistiti cosa che lei a quanto pare non ha fatto. Sì non l'ho fatto e non ritengo non lo faccio neanche perché la prima lettera purtroppo l'ho inviata in buona fede ed è stata giustamente uno sbaglio che forse io ho fatto la seconda giustamente non tocca nemmeno a me a fare ma chi è veramente responsabile poi al momento giusto lo farà a chi si ritiene opportuno. Insomma sabato sera siamo usciti dal boccone del povero davvero desolati se quanto annunciato dai responsabili corrisponde a verità siamo davvero amareggiati.